E diceva, core, core, core mio lontano fai Io sono Antonio Palazzo, ideatore di questo bellissimo progetto artistico interamente dedicato alla canzone napolitana dal titolo appunto Partenope Suite questo video per invitarvi il 15 agosto a Trani all'interno del Palazzo del Trani dove ci sarà la prima assoluta di questo concerto dedicato appunto alla canzone napolitana con me sul palco la bellissima voce di Badriela Zanno Gianni Iorio al bandoneone Gianluca Ceto al basso Pasquale Angelini alla batteria Michele Ciavarella alle percussioni e il sottoscritto al pianoforte e al range poti per cui vi invito il 15 agosto a Trani Palazzo Beltrani Ciao 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 turnerà